L'Alzheimer è una tra le principali cause di morte fra gli over 65 e una tra le principali cause di disabilità tra la popolazione italiana. Ecco perché è fondamentale organizzare una rete di cure e di assistenza pronta ad affrontare le sfide che le demenze in generale e l'Alzheimer in particolare pongono al Servizio Sanitario Nazionale e alla società. Come emerso nel corso del convegno Uniti contro l'Alzheimer organizzato dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer che ha promosso un manifesto di impegno comune. Ne parliamo con Alessandra Mocali. Come commenta la sottoscrizione del manifesto presentato oggi? Commento ovviamente positivamente in quanto è molto importante che ci sia questa unione come dice il manifesto Uniti contro l'Alzheimer perché se non facciamo rete la parte politica con la parte assistenziale scientifica e anche con la ricerca che io rappresento non potremo mai arrivare ad una possibile soluzione di questo terribile problema. È un momento importante per le persone con Alzheimer perché? È un momento importante perché è da molto tempo che si stanno aspettando le novità anche da parte della ricerca, nuovi farmaci ed altro, soltanto che se non abbiamo poi anche un sistema che prenda in carico le famiglie e che possa applicare queste novità che stanno arrivando non stiamo in grado di rispondere a queste richieste che vengono appunto dai malati, dai pazienti, dalle persone che li accudiscono. Cosa deve cambiare per la diagnosi e la cura delle persone con Alzheimer? Per la diagnosi e la cura delle persone con Alzheimer prima di tutto dobbiamo essere in grado di poter fare diagnosi precoci e quindi la malattia deve emergere nelle fasi precoci superando lo stigma che attualmente ha nella popolazione e infine per la cura dobbiamo essere in grado di accompagnare con dei percorsi diffusi e integrati le famiglie e gli ammalati nei percorsi migliori di cura e di sostegno che potranno essere a disposizione nel prossimo futuro.